Consiglio comunale di Taranto, question time, siamo con il consigliere, il dottor Massimiliano Stellato, il gruppo Puglia Popolare ha presentato una mozione relativa all'uso delle rastrelliere per le biciclette e anche relativamente all'area di parcheggio, alle aree di parcheggio per motocicli. Di cosa si tratta nello specifico? Direttore, non basta applicare un piano urbano per la mobilità sostenibile né promuovere la cosiddetta mobilità dolce se non prepariamo il substrato cittadino del suolo pubblico per accogliere coloro che intendono prendere i motocicli al posto delle auto o le biciclette che passano verso quella transizione ecologica tanto auspicata. Dobbiamo prepararci e abbiamo chiesto soprattutto nei punti strategici della città e della periferia un aumento, un incremento delle aree dedicate ai motocicli perché troppo spesso ormai i nostri concittadini sono quasi costretti a parcheggiarli in maniera distorta sui marciapiedi. Chiediamo un aumento delle rastrelliere per le biciclette, è una novità green verso la mobilità ma è anche un punto di decoro che ci auspichiamo verso i nostri cittadini.